Notizie ufficiali come riportato in questi giorni ancora non ce ne sono, ma Liberti ha lavoro per riorganizzare il campo basso calcio. In attesa della conferenza stampa ufficiale, ancora da stabilire la data, si opera sotto traccia per indirizzare la nuova stagione di Rosso Blu. Qualche news trapele in merito allo staff tecnico, ma è ovvio che si tratta solo di rumors e di notizie non confermate. Pare che Liberti abbia già scelto il nuovo allenatore, una figura indicata proprio dall'ex presidente della Salernitana. Da valutare il direttore sportivo con Minadeo che con grande probabilità ricoprirà il ruolo di direttore dell'area tecnica. Come detto si sta definendo anche la sede per il ritiro estivo della squadra, insomma notizie ufficiali non ce ne sono, ma la nuova dirigenza sta comunque operando a fare i spenti. La questione ripescaggio che tiene Banco nel capoluogo dopo le direttive del Consiglio federale della FIGC sembra sempre meno praticabile. Le eventuali intenzioni della società si scontrano in modo decisivo con la questione riguardante l'impianto di Selva Piana. Stadio fatiscente in più settori, a proposito anche in tribuna, si sono create delle situazioni pericolose. I ferri della struttura ormai venuti fuori dalla sede di cemento. L'impianto non può ospitare partite di Lega Pro, anzi nelle condizioni attuali si rischia anche per il campionato di Serie D. E' ovvio che una società che punta a vincere il campionato ha bisogno anche del supporto del pubblico allo stadio, sia come vicinanza sia dal punto di vista economico. Ebbene questo ad oggi non è possibile a Campobasso, per una capienza ridotta che rischia di ridursi ulteriormente. I lavori non partono dai famosi 800 mila euro stanziati dalla regione e messi a disposizione del comune non vi è traccia. Non solo impianto, la questione relativa al parcheggio sembra diventata una gag di Zelig. Come è possibile vedere in ogni parte d'Italia, dei divisori mobili vengono utilizzati per dividere la zona per il parcheggio dalla tifoseria ospite. In ogni impianto d'Italia, la domenica, dei muletti sistemano questi divisori per dividere le tifoserie e al termine della partita vengono ovviamente rimossi. Al contrario del comune di Campobasso, dove si pensa alla creazione di un muro, in stile berlino, che pregiudicherebbe ogni tipo di altro utilizzo, vede una fiera, una manifestazione sportiva o anche un concerto. Questioni che ovviamente scoraggiano la società nell'ipotesi di un eventuale ripescaggio. Tanti hanno visto la gara di domenica scorsa tra Foggia e Pisa per accedere in Serie B. Zaccheria pieno in ogni ordine di posto. Ebbene ad oggi uno spettacolo del genere sarebbe impossibile a Campobasso anche con la squadra in Lega Pro.